Diana 1999 Diana 1999 il mio romanzo a fumetti disegnato da Letizia Cadonici edito da La Ruota il team drama romantico e nostalgico ma anche certamente la storia della famiglia e più che certamente la storia d'amore tra una ragazza e la letteratura è finalmente uscito, è in commercio nei prossimi giorni sarà in tutte le librerie online a partire da IBS ma tutte Mondadori, Filtrinelli, Amazon librerie universitaria eccetera nelle librerie fisiche Mondadori disponibile e o immediatamente ordinabile librerie fisiche varie un consiglio di lettura non proprio spassionatissimo ma certamente di più, una grande gioia per me e per la mia squadra grazie